ciao a tutti oggi come avrete sicuramente capito dalle immagini quello che andremo a fare questo particolarissimo collier all'uncinetto questa è una richiesta una delle più gettonate veramente me ne avete fatto tantissime di richieste per questo tipo di collana e oggi andremo a vedere finalmente come realizzarla quindi smettiamo subito di chiacchierare e andiamo immediatamente a vedere cosa occorre e come si realizza il nostro splendido colliestivo per realizzare la nostra splendida collana noi abbiamo bisogno del filato innanzitutto no innanzitutto abbiamo bisogno dei cerchietti cerchietti li potete ricavare da qualsiasi cosa o da un pezzetto di plastica o io per esempio ho comprato questi cerchiettini il galletto vi saluto anche oggi e ora con le finestre aperte lo sentirete molto più spesso perché prima avevo le finestre chiuse non lo sentivate adesso con il caldo lo sentirete sempre più spesso vi dicevo io utilizzo questi cerchiettini della prima che sono questi e ci sono veramente di tutte le dimensioni grandi piccoli medi e se non trovate questi potete comunque utilizzare qualsiasi potete utilizzare le bottiglie di plastica dei braccialettini di questi ci sono di tutte le dimensioni per fare gli orecchini di metallo insomma potete utilizzare qualsiasi cosa che sia un cerchietto quindi lista la vostra fantasia oppure potete utilizzare anche diverse forme io per esempio ho utilizzato per la mia collana due di questi ganci da borsa che sono fatti a di vedete sono realizzati a di una volta che avremo preso le nostri i nostri cerchietti dove prenderete se volete spunto da quelli che utilizzato io per il numero e la posizione altrimenti prende solo spunto dal tipo di lavorazione poi li assemblerete come meglio crederete per ricoprire i nostri per realizzare la nostra corana dobbiamo ricoprire i nostri cerchietti e io li ho ricoperti con un mix di filati ho utilizzato il cordino tai di diversi colori che è molto molto bello perché è molto brillante vedete guardate la la resa sulla sulla copertura di per esempio questo anellino è così ed è molto bello il cordino tai è veramente brillante si presta molto per questo tipo di lavorazione io l'ho utilizzato di diversi di diversi colori per per fare il lavoro poi ho utilizzato il filato donne 3 che è un cotone molto molto brillante sempre della tessiland sia il cordino tai che la maggior parte dei filati che ho utilizzato sono tutti della tessiland ho utilizzato il donitre color arancio e poi quello color crema poi ho utilizzato il filato iron che è questo filato sempre della tessiland che ha diversi diversi spessori vedete sottile più spesso sottile più spesso ed è molto particolare per realizzare gioiellini poi avendo questo filo in lurex all'interno è molto molto originale per realizzare appunto i gioiellini poi per ricoprire i nostri cerchietti abbiamo bisogno dell'uncinetto e io ho utilizzato per i miei filati per i filati che utilizzato un uncinetto numero 3 poi voi userete l'uncinetto adeguato al tipo di filato che userete per ricoprire i vostri cerchietti poi vi occorrerà una catena la sceglierete io l'ho scelta brunita perché ho usato tutti i colori molto caldi colori della terra quindi ho usato marrone arancio bordeaux e quindi ho preso una catena brunita voi la sceglierete a seconda del vostro gusto e dei colori che avrete utilizzato per la vostra collana poi vi occorrono delle pinzette due pinzette è un tronchesino un paio di forbici un tubettino di colla io vi consiglio per tutti i lavorini di bigiotteria vi consiglio sempre la colla in gel questa che attacca in pochi secondi ma quella in gel poi un ago da lana un ago da cucito di questi anche un pochino più grossi non occorre che sia di quelli proprio fini fini va bene anche un pochino più grosso e un rocchettino di filo di nylon se non trovate il filo di nylon e rocchetti come questi va benissimo anche il filo dalla pesca prendete quello molto sottile perché serve per cucire quindi serve un filo molto sottile poi avete bisogno di un po di questi anellini di metallo se volete fare le decorazioni come le ho fatte io nella nel mio collier altrimenti non vi servono io vi dico tutto quello che utilizzato nel mio collier questi anellini di metallo una pinzetta che vi occorre per a per prendere i vari componenti poi vi occorre del della nella conteria delle perline di conteria di un colore che si si abbini bene ai colori della vostra che avete scelto per la vostra collana e poi delle perline di legno di osso a seconda di come vi piacciono quelle che io ho messo nella nella mia collana sono tonde e allungate è a goccia poi avete bisogno di una chiusura di queste a s che anche queste qui le trovate ovunque veramente anche online ci sono tantissimi siti veramente adesso che vendono tutta la minuteria per i componenti e la minuteria per per la bigiotteria e i ciodini questi con la testa piatta da bijù da bigiotteria bene tutto quello che occorre ve l'ho detto andiamo subito a vedere come si realizza la nostra originalissima collana in pratica noi dobbiamo fare questo lavoro dobbiamo ricoprire tutti i nostri anellini con l'uncinetto e il filato i vari tipi di filato quindi andiamo a prendere vi faccio vedere come fare lo facciamo con uno piccolino poi ovviamente i colori li sceglierete come vi dicevo in base al vostro personalissimo gusto per ricoprire i cerchietti di qualsiasi dimensione voi li abbiate scelti vi basterà entrare con l'uncinetto all'interno del cerchietto accostare il filato entrare caricare il filo sull'uncinetto riuscire fuori poi fate la catenella la prima volta per le volte successive entrate all'interno fate agganciate il filo e poi fate una maglia bassa ora io vi consiglio di passare il filo d'inizio accanto alla lavorazione in modo da nasconderlo man mano che lavorate così vi evitate un passaggio alla fine quindi entrate all'interno del cerchietto agganciate il filo vedete catturate nel contempo il filo che dell'inizio e fate la maglia bassa entrate agganciate maglia bassa entrate agganciate maglia bassa è semplicissimo veramente facile facile e andate a ricoprire in questo modo tutti gli anelli grandi piccoli medi quelli che avrete deciso di utilizzare per la vostra collana li ricoprirete tutti in questo modo uno con un colore differente dall'altro una volta che avrete terminato con il ricoprire tutto il cerchiettino andrete ad agganciarvi alla prima maglia con una maglia bassissima in questo modo tirate tagliate e fermate il filo poi prendete un lago da lana inserite il filo nel lago e lo fate passare come facciamo sempre all'interno dei punti però la parte diritta diciamo della 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 vostra rondellina è quella dove si vede il punto mi fate passare nella parte retro in questo modo e poi andate ad inserire lago all'interno dei punti così tirate e tagliate via e fate questo in tutte in tutte le vostre rondelline una volta che avrete trovato la vostra disposizione adesso dobbiamo andare ad attaccare in questo in questo modo per attaccarla utilizzeremo un ago da cucito con un filo trasparente se non lo trovate va benissimo anche la lenza da pesca quella più sottile in assoluto che trovate perché non deve essere esageratamente spesa la inserite nel lago così come si fa con un filato per cucire partite da un da uno dei dei componenti e andate ad attaccare il successivo l'ho fatto dalla parte retro quindi la parte davanti come vi dicevo è quella dove si vede questa qui dove si vede il punto il retro è questo io io scelgo questo poi potete anche decidere di farlo da questa parte ognuno è sempre soggettivo e andiamo ad attaccare due componenti e li attaccheremo come vi dicevo dalla parte del retro entrate con ago e filo il primo fate un nodo un paio di nodi perché il filo di nylon non è è più scivoloso di quello di cotone poi andremo a fare sparire le codine all'interno della lavorazione così come abbiamo fatto per per il filo della lavorazione delle dei cerchietti fate un po' di punti così non servono tanti e un paio due o tre tanto il filo di nylon è molto molto vedete così e non si vede niente non si vede la cucitura adesso procedete con il filo successivo fate passare il filo attraverso la lavorazione per uscire dalla parte opposta mi faremo una cucitura continua e fate passare attaccate il componente successivo quindi in questo caso la rondellina quella piccolina potete attaccarlo notato che si può attaccare tranquillamente anche dal davanti e tanto non si vede niente poi avendo appunto se la fate così come ho fatto io di diversi colori si confonde assolutamente nella lavorazione essendo trasparente un paio di punti e poi andate ad attaccarvi alla alla successiva quindi passate sempre con l'ago attraverso la rondellina che avete appena cucito e vi attaccate alla rondellina successiva un paio di punti e procedete così sino ad aver assemblato tutte le vostre rondelline volevo darvi un piccolissimo consiglio se voi utilizzerete come me il cordino tie per fare la vostra collana che è stupendo perché vedete è estremamente brillante è bello anche il doni per esempio questo è il doni 3 ed è molto bello come colore questo qui è un cotone ma co molto bello questo qui è il filato aiuto è il filato volevo darvi un consiglio relativo alla realizzazione dei vostri rondellini con il filato con il tai con il cordino tai siccome molto scivoloso come come materiale una volta che voi avrete terminato di fare il vostro ricoprire il vostro cerchietto vedate che vi una volta che voi avrete terminato di coprire il vostro cerchietto andate a fare questo lavoro entrate nei 45 punti successivi alla chiusura portate fuori da una parte entrate nel punto successivo dal punto successivo dalla parte retro ri agganciate il filo e lo portate dentro perché con il lago il filo è molto difficoltoso e invece in questo modo poi se riuscite con lago e filo potete provarci però io ho provato e si sciupa un po al lavoro e allora per bloccare faccio in questo modo entro nei 56 punti successivi a quello di chiusura porto fuori da una parte entro dal retro del lavoro e lo porto dentro in questo modo per 45 punti così poi volto prendo il tubettino della colla quella che attacca in pochi secondi vi consiglio la colla gel per questi lavori se voi utilizzate il filato tai e vi dico il cordino tai se non lo utilizzate va bene uguale date un puntino di colla proprio nel punto dove avete tagliato con una punta e con il dorso di uno stecchino io utilizzo questi bastoncini che sono comodissimi quando vado a mangiare al giapponese me li porto via sempre sul retro ovviamente del lavoro così lasciate asciugare però qualche secondo perché tanto questa è una colla che asciuga in pochi secondi e dopo di che procedete con l'assemblarla una volta che abbiamo terminato di attaccare tutti i nostri cerchietti andremo a terminare la composizione della nostra freschissima collana prendete adesso la catena e ne prendete tanta quanta vorrete lunga la vostra la vostra colla tenendo presente che questo è studiato per essere un collier quindi ha attaccato abbastanza al collo e non troppo lunga poi la divido a metà apro l'anello centrale e contate gli anelli dovete avere lo stesso numero di anelli da una parte e dall'altra adesso aprite uno dei due anelli all'estremità delle catene uno inserite nel nel cerchietto o nel componente estremo della della collana una volta che avrete terminato di attaccare le due parti della catena da ambo da ambo le parti della collana andate ad attaccare la chiusura queste chiusure le trovate come vi dicevo prima da tutte le parti e le trovate veramente ovunque se non le trovate nei negozi o nei banchini sul mercato basta che voi cerchiate chiusure per bigiotteria trovate una marea di siti veramente tantissimi ce n'è che vendono che vendono questi componenti costano veramente il giusto andiamo adesso a terminare allora avete due opzioni se vi piace già così la lasciate così avete terminato la vostra collana bellissima se invece la volete ulteriormente arricchire se volete fare l'ultima diciamo decorazione quella che farò io nella mia andrete a prendere i gancettini che vi ho fatto vedere all'inizio gancettini e i componenti quindi prendiamo i gancettini cerchiettini di metallo li apriamo poi lo fare io vi do gli spunti poi voi ovviamente lo sapete farete il progetto come più vi piacerà prendete spunto da quello che vi faccio vedere poi voi lo fate come più vi piace andate ad agganciare l'anellino aperto ai punti di uno dei io lo farò in questo qui nei punti di questo così aggancio in tutto il punto quindi prendo tutta la maglia bassa e poi vado a stringerlo così e lo faccio per tutte le maglie basse dall'inizio alla fine quindi allargo il gancetto entro in tutta la maglia bassa e poi stringo il gancetto lo vediamo un'altra volta allargo il gancetto entro all'interno della maglia bassa in questo modo e poi lo stringo e lo fate per tutti i punti del cerchiettino una volta che avrete terminato l'effetto è questo vedete è molto molto simpatico abbastanza particolare poi io voglio mettere anche qualche perlina per arricchire ulteriormente ulteriormente la mia la mia collana prendo il chiudino uno dei chiudini inserisco se il buchino della perla che voglio utilizzare è troppo largo vado ad inserire una perlina di conteria di un colore che si possa benissimo abbinare alle mie perline di legno poi prendo la perlina la inserisco perché con queste perline che hanno il buchino un po' troppo largo se non metto la perlina di conteria mi passa attraverso il il buchino della perlina il chiodino e allora è inutile non lo tiene taglio a circa un centimetro giro la collana nella parte del rovescio inserisco la punta del chiodino attraverso un punto faccio uscire dall'altra parte poi con la pinzetta vado a girare il chiodino sino a fargli toccare la punta della perlina il fondo della perlina non la punta così quindi faccio un anellino intorno alla maglia così ne prendo un'altra faccio la stessa cosa taglio circa un centimetro entro dal davanti nel punto successivo e poi vado a piegare nuovamente fino a ricongiungermi con il chiodino praticamente faccio un anellino di congiunzione e lo faccio per quante perline voglio mettere intorno alle mie lo potete fare anche intorno a tutte io ora lo farò soltanto intorno a una perché non voglio esagerare e io me ne metterò una grande e una piccolina così farò una specie di sole con le mie perline quindi una grande e una piccola una lunga insomma una corta una lunga e una corta sino a contornare solo questa parte ora poi vi faccio vedere ed eccola qui una volta terminata come appare la vostra collana è molto molto bella molto particolare davvero originalissima poi ognuna di voi la renderà unica perché ognuna di voi utilizzerà i colori che più preferirà i componenti aggiuntivi che più amerà e quindi la catena differente quindi insomma ogni progetto relativo a questa collana che verrà fuori da questo tutorial in poi sicuramente sarà solo vostro quindi unico al mondo bene a questo punto io spero di aver accontentato tutte le amiche che mi avevano chiesto la realizzazione appunto di una collana particolare con gli anellini ricoperti di uncinetto e le richieste sono veramente tantissime quindi spero di averle accontentate tutte le mie dolcissime amiche e anche le amiche che mi chiedevano le amiche e gli amici che mi chiedono sempre la bigiotteria particolare questa è veramente molto molto originale molto particolare molto bella molto personalizzabile tra l'altro bene a questo punto l'avete capito il tutorial è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di Chris vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial ciao